Appena vedono la guardia costiera alzano le braccia al cielo per chiedere aiuto. Sono i migranti di uno dei due barconi soccorsi in pochi giorni a largo delle coste siciliane a poche miglia da Portopallo di Capopassero. A bordo delle imbarcazioni c'erano rispettivamente 80 e 68 clandestini. Roberto D'Arrigo, capitano di Corvette, capo ufficio relazioni esterne della direzione marittima di Catania. Erano nel primo caso tutti di nazionalità egiziana, tutti uomini. Quindi, differente quello che è avvenuto nell'ultimo episodio, che si sono dichiarati tutti somali, erano presenti anche delle donne, due in stato interessante, una di queste anche con una frattura. Viste le condizioni fatiscenti delle imbarcazioni, gli uomini della guardia costiera hanno messo immediatamente a sicuro i migranti nelle loro motovedette, trasferendoli a Portopallo dove è scattato il dispositivo di accoglienza. Le favorevoli condizioni del mare potrebbero agevolare nuovi flussi di sbarchi.